Ciao a tutti! Eccoci con la nuova versione di Mindtest 0.4.7 pronti per iniziare una nuova serie. Allora, vi dico subito che questa serie sarà in collaborazione con Jackie Dale, che tra un attimo dovrebbe connettersi. Ho creato questo mondo nuovo in cui ci saranno solo due mod e voglio subito spiegarvi di che cosa si tratta. In pratica, in questo mondo faremo principalmente delle costruzioni e quindi non sarà un'avventura che vedrete tutto il tempo, ma sarà un'avventura che voi vedrete quando noi avremo costruito qualcosa di interessante. Faremo delle belle costruzioni, delle grandi costruzioni. Abbiamo già in progetto varie cose divertenti. E visto che sarà noioso... Ah, ecco! È apparso Jackie Dale, andiamo subito a trovarlo. Eccolo. Saluta. È buggato. Cosa fa? Corre? Corre sul posto? Comunque, dicevo, noi abbiamo iniziato il server in questo momento, ma non ci vedrete raccogliere legno, eccetera, eccetera. Per costruire le prime abitazioni. Faremo tutti questi edifici in survival e non in creative, quindi un mi piace almeno per questo dovrete mettercelo, un mi piace qua sotto. Qua sotto, adesso non si sposta, ve lo faccio vedere qua sotto. Poi non so neanche se vedete il puntatore, comunque qua sotto. Bella gente, eccolo, il nostro amico Jackie Dale. Metterò il link al suo canale in descrizione, anche se gli episodi li caricherò solo io. Andate a vedere il suo canale perché ha dei video molto carini, fatti bene. E niente, anche lui è un appassionato di Maintest, allora ci troviamo a fare dei video insieme. Visto che fare le costruzioni sarà noioso da vedere per voi, ecco, bravo, inizia già a prendere del legno. Sarà noioso per voi. Quindi vi faremo vedere solo quando avremo la costruzione terminata o comunque un piccolo pezzo dei passaggi per darvi un'idea di quello che abbiamo fatto. Però non vi faremo vedere tutto il processo perché sarà ben ognoso. Comunque, faremo una piccola base, di sicuro, perché come ho detto prima sarà tutto in survival, niente in creative. E mi sono perso cosa stavo dicendo. Sto diventando vecchio, Jackie Dale che è più giovane di me. Probabilmente si ricorda anche cosa stavo dicendo, ma io non me lo ricordo assolutamente. Dicevo prima, prima, invece, che abbiamo solo due mod sopra, ho messo Unified Dice, la mod di Vanessa, che serve per avere più colori, così anche più lana colorata. Così potremo fare degli edifici colorati. E ho messo la mod dei letti, perché così potremo dormire e settare il nostro spawn e passare al giorno. Detto questo, io non so, non credo che ci sia altro da fare. Vabbè, iscrivetevi al canale di Jackie Dale, naturalmente. Mettete un mi piace se volete... No, se volete, mettete un mi piace e basta. Tanto così perché noi siamo simpatici, siamo carini, ci siamo presi lo sbatte di fare questa cosa. Io tra l'altro sono sotto esami. E quindi iniziare una nuova serie sotto esami non è una cosa proprio il massimo. Però diciamo che va bene così e ce la teniamo così. No, vabbè, perché mi piace fare video e tutto. Lui spacca del legno, così tanto per un sapling, ripiantiamo un albero. Allora, ciao a tutti ragazzi. Credo che per questo episodio sia abbastanza. Verrà un episodio molto breve, ma era semplicemente per presentare la serie. Ah, tra l'altro metterò in descrizione, anche se non me lo ricordo, per caso scrivetemelo voi nei commenti, il link al mio account su Facebook, no account, la pagina su Facebook a cui potete mettere mi piace per avere comunque degli aggiornamenti, se volete, eccetera, eccetera. Jackie Dale si è bloccato. Probabilmente, non lo so, magari è andato a cena. Se ne è andato. Ciao, guarda che belli occhi azzurri che ha Jackie Dale. E con gli occhi azzurri di Jackie Dale, nostro amico, chiudiamo questo video. Ciao a tutti ragazzi, aspettatene delle belle per i prossimi video. Vi ricordo, mettete mi piace, mi raccomando. E alla prossima. Ciao! Ciao!